L'associazione COSMA, coordinamento salute mentale Abruzzo, si è costituita il 19 maggio 2003 su iniziativa di otto soci fondatori. Dal 31 agosto 2005 COSMA è iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il suo obiettivo principale da sempre è quello di ottenere per le persone affette da una malattia mentale il riconoscimento della loro dignità, della loro libertà, del loro diritto di vivere come gli altri all'interno della società. La situazione della salute mentale in Abruzzo ce la spiega nel dettaglio Tiziana Arista, presidente dell'associazione COSMA. Tutti gli indicatori sono negativi, in particolare tre che sono molto importanti. Il personale adibito ai servizi per le persone che hanno problemi di salute mentale che è circa la metà come indicatore di quello medio nazionale, quindi un dato davvero molto grave. Le persone trattate nei centri di salute mentale, anche quello è una situazione difficile, e quindi sono più alti i trattamenti sanitari obbligatori, perché ovviamente se le persone non vengono trattate a dovere, poi ogni tanto c'è qualcuno che si dice nel gergo che sclerano, e quindi poi c'è bisogno del trattamento sanitario obbligatorio. Noi facciamo attività con le quali cerchiamo di tenere botta. Oggi per esempio proiettiamo il video di uno spettacolo che abbiamo tenuto al Florian il 12 maggio, di danza, realizzato in pochissimi mesi da una valente professionista che è Anouska Brodac, che molti conoscono in questa nostra realtà, che è riuscita in pochi mesi a tirar fuori da alcune delle persone di cui noi ci occupiamo davvero delle performance inimmaginabili. Questo significa che si possono fare tante cose. Assolutamente, si possono superare tanti ostacoli. Vi occupate nello specifico di adulti che soffrono di malattie mentali complesse? Complesse, si dice severe, quindi schizofrenia, sindrome, la malattia bipolare, i disturbi della personalità, con la situazione generale che c'è. Sono persone che non reggono questa ansia che tutto ciò che ci circonda provoca. C'è però da combattere lo stigma. Parola di origine greca significa marchio, impronta, segno distintivo, utilizzata in diversi ambiti. In particolare gli esperti di salute mentale individuano con questo termine la discriminazione basata sulla pregiudizio nei confronti dell'ammalato mentale. Di conseguenza per un ammalato mentale subire lo stigma significa vivere ogni giorno nell'esclusione, nel rifiuto, nella vergogna e nella solitudine. Difficile però che facciano il primo passo, che entrino in questi luoghi, perché significa riconoscersi una malattia mentale che fa i conti con lo stigma. Se non c'è lo stigma la persona entra, perché diceva che c'è una malattia mentale, come io c'è un cancro, quell'altro c'è la tiroide che non gli funziona tanto bene. Grazie.